Ci può un po' commentare questo risultato, un 24% che è importante, siete arrivati al ballottaggio, ma c'è un 17% del PD che è un po' pesa, perché è un po' lontano dai risultati del 2013. Beh certo, ma noi venivamo da una vicenda come Mafia Capitale in cui il PD di Roma era stato coinvolto da un'amministrazione non certo straordinaria come quella di Marino, quindi un calo assolutamente fisiologico, tanto che quando è iniziata questa campagna elettorale neanche ci davano al ballottaggio, al ballottaggio ci siamo arrivati, quindi un pezzo della rimonta l'abbiamo fatta, ora manca il rush finale. Quanto pesa quello che è successo con Marino, come si è un po' comportato il PD con Marino, le firme al notaio? Questo assolutamente nulla secondo me, pesa lo stato della città, noi siamo andati meno bene in periferia, quando si va in periferia non si lamentano perché abbiamo mandato via Marino al notaio, che poi non è vero perché l'abbiamo mandato via in Campidoria alla presenza del notaio come prevede la legge, queste sono le leggende metropolitane, ma pesa il fatto che quella pezzo di città da Marino è stato amministrato male, è dimenticato completamente. Faccio un esempio, Marino ha fatto una sola iniziativa di campagna elettorale a sostegno di Marco Scipioni, candidato presidente del sesto municipio Torbella-Monaga per capirci, persona peraltro che io ho cacciato dal PD perché Marino sa anche perché, ha preso il 2,5% il candidato di Marino, questo è il giudizio che viene dato dai cittadini della periferia di Roma.